parliamo di un fiore molto bello da vedere un fiore che io trovo sorprendente e non per qualche cosa stranissima ma proprio nel momento in cui mi avvicino per guardarlo un fiore che piace tanto agli insetti impollinatori cosa che so che per qualcuno potrebbe essere un motivo più che valido per non volerlo ma in realtà è un ottimo motivo per sceglierlo l'altro motivo è che è facile da coltivare benvenuti a giardino rivelato podcast di esplorazione poetica dell'arte dei giardini e oggi anche un po pratica perché ricordiamo che poesia è una cosa pratica cioè una cosa in cui tu si devi pensare ma devi anche realizzare si ci devi mettere ci devi lavorare e quindi parliamo un po del cistus cistus è il nome di un genere di piante un genere non una specie se una specie è la cosa più piccola come homo sapiens è una specie homo è il genere a cui apparteniamo e cistus è il genere di questa famiglia che ha dei fiori a cinque petali molto belli ora c'è un'altra famiglia di piante che ha cinque petali in genere sono le rosacee a cui appartengono ovviamente le rose o i rovi o i meli di solito le rose hanno cinque o multipli di cinque petali i cisti anche hanno cinque petali ma hanno cinque petali un po particolari la cosa più bella secondo me è che sono spiegazzati cioè sembrano proprio una camicia di seta un fazzoletto di seta spiegazzato oppure immaginiamo quando d'estate ci mettiamo una camicia di lino un pantalone di lino ecco dopo mezz'ora lo stato in cui si trova quello è la superficie del fiore del cisto ed è una cosa che mi piace tantissimo e in genere c'è anche una spiegazione evoluzionistica per cui una pianta ha questa forma ci arriviamo più tardi perché dedicarci al cisto perché il cisto diciamo che giugno trova il cisto trova nel mese di giugno il periodo in cui è fiorito un po in tutta italia che sia il clima più mediterraneo e asciutto che sia quello un po più freddo al nord anche se signora mia le stagioni non sono più come quelle di una volta è una pianta mediterranea una pianta che cresce in europa affacciata verso il mare e in nord africa in medio oriente quindi una pianta che è abituata ai stati secche e inverni ai stati secche calde ovviamente aride e inverni miti e umidi è una pianta che ha delle particolari caratteristiche per cui è molto facile da coltivare come la definì una volta paolo peirone grande paesaggista è una pianta da abbandono un po come i rosmarini è una pianta che se io mi dimentico che ce l'ho forse cresce meglio che se sto lì a curarla perché non vuole troppe attenzioni andiamo subito a vedere come si coltiva una pianta di cisto la pianta di cisto è perfetta se ho un giardino che è roccioso un terreno roccioso se ho un giardino in cui non ristagna l'acqua se per esempio ho un terreno un po più in cui ristagna un po più d'acqua tipo argilloso è meglio che stia in pendenza perché così sento che l'acqua la pianta non si trova in una pozza d'acqua l'acqua scivola via e come abbiamo detto è una pianta che fiorisce in estate tra maggio e agosto poi ovviamente dipende dal dal clima così com'è però io ci tengo a parlare di questa pianta proprio perché veramente fa dei fiori stupendi valli valli a cercare ora ferma un attimo l'audio vai su google e cerca cistus puoi cercare cistus monspeliensis che è il cisto di montpellier oppure il cistus salvifolius che è chiamato cisto femmina e francamente non so perché è chiamato cisto femmina i nomi volgari delle piante sono sono molto affascinanti e poi ci sono tante ibridi c'è il cistus pulverulentus il cistus ibridus per esempio il pulverulentus ha dei fiori rosa quasi fucsia e poi c'è lo cistus scambergi che ha foglie grigio verdi e che hanno una leggera peluria sulle foglie e a questi fiori rosa invece il cistus monspeliensis invece è bianco il purpurius indovinate è un fiore ha un fiore rosso spero tutti sia fermato per cercare dico davvero ora abbiamo visto tutti che formano questi fiori di cisto che foglie hanno hanno queste foglie che danno proprio l'idea di una pianta che è abituata a un clima caldo mediterraneo le specie di cisto sono circa una ventina e sono tutte molto interessanti variano per dimensione ci sono da quelle più piccole che rimangono intorno ai 30 40 centimetri quelle che crescono oltre il metro ora immaginiamo che tu voglia questa pianta perché è facile da coltivare e essendo facile da coltivare non significa che non te ne importa niente ma anzi ti lascia la libertà di poter capire qualcosa di più di questa pianta perché perché non sei lì con l'ansia di doverla curare quindi ecco la metti in un terreno che è esposto al sole sto dando dei consigli su come coltivarlo ovviamente esposto in pieno sole e se non puoi avere in pieno sole magari un po di sole alla mattina più sole possibile e meglio è però anche qui è molto luminoso ma non è il pieno sole io non me la sento di dirti non ci provare nemmeno perché magari quella pianta in quel posto vuole crescere magari viene con i fogli con le foglie un po più rade un po eziolata si dice quindi i rami che si allungano per cercare la luce però non è detto che tu non sia portato destinato ad avere questa pianta e per quanto riguarda il clima come abbiamo detto è una pianta mediterranea però resiste anche sotto lo zero quindi certo immagino che un mese o due di meno dieci gradi possano danneggiarle in qualche modo ma se fa freddo una notte ma si trova in un ambiente protetto in cui non c'è un ristagno d'acqua e quindi l'acqua non gela nel terreno e le radici non gelano e l'acqua nella pianta non ha avuto il tempo di gelare allora questa pianta possa sopravvivere per il caldo non c'è problema perché come abbiamo detto ama i climi aridi e caldi ed esposti al sole assolati insomma è una pianta che ama stare al mare d'estate in riva alla spiaggia ma non disdegna un bagno in un lago alpino non sto dicendo che non ci sono problemi a coltivarli sulle alpe sulle alpi era una metafora però la cosa bella è che non c'è un periodo migliore per piantarla posso piantarla a fine inverno posso piantarla a fine primavera sì poi magari se io la pianto a fine primavera devo annaffiarla di più perché la piantina appena messa in un ambiente nuovo ha bisogno di più cure però ecco se io metto una piantina è appena piantata la prima annaffiatura gliela faccio abbondante le faccio fare un bel bagno di fango e poi aspetto che il terreno si asciughi un po dopo qualche giorno la riannaffio pian piano io abito questa pianta a non essere viziata e quando fiorisce se ha fiorito nel momento in cui sfiorisce posso fare delle cose intanto posso fare delle talee cioè posso riprodurla taglio dei rametti magari di una decina di centimetri e spunto le due estremità in modo che rimanga circa 5 6 centimetri a quel punto puoi provare a mettere questo rametto tagliato in un vasetto con della terra umida non troppo bagnata oppure prova anche dentro l'acqua vedi se tira fuori delle radici e se tira fuori delle radici hai un clone hai una talea e siccome ha sfiorito l'altro consiglio è a meno che tu non voglia vedere i frutti taglia pota i fiori che ormai sono appassiti e poi potrai potarla di nuovo per evitare che invecchi perché ogni anno la pianta cresce un po mette le foglie sulle ponte e poi sotto in mezzo si secca ma non è del tutto secca se io arrivo a tagliare appena sopra l'inizio delle foglie sul rametto pian piano quella pianta farà delle gemme lungo quell'asse lungo quel rametto e quindi io in questo modo ogni anno posso mantenerla giovane e non significa che non cresce pian piano aumenterà ma posso controllare che non si secchi all'interno che questa pianta non diventi vecchia ci tengo a dire cosa che io non sapevo assolutamente che il cisto a quanto pare su internet è molto più famoso come elemento di erboristeria che come pianta da giardino ho scoperto che è considerato un rimedio naturale che vale contro disturbi respiratori febbre antinfiammatorio per la pelle problemi intestinali tutto qualunque cosa pare che il cisto la possa fare sicuramente è una pianta che attira gli insetti e questo anche proprio non solo perché per il polline ma proprio per la forma dei fiori questi fiori accartocciati che sono estremamente più visibili per gli insetti tutte le nervature all'interno del petalo sono quello che attirano l'impollinatore come noi invece mammiferi facciamo più attenzione al colore della pianta i fiori hanno pensato anche a quello quanti fiori bianchi ci sono questi fiori bianchi non hanno sviluppato un colore perché magari non avevano bisogno di attirare degli animali avevano bisogno di attirare solo quegli animaletti che entrassero lì nel fiore attirati da tutte le nervature le venature che c'erano all'interno del che ci sono all'interno del petalo ed è il motivo per cui trovo che il cisto sia un fiore sorprendente perché da lontano è bello un cespuglio verde magari verde grigio verde scuro verde giallognolo verde luminescente per via della lanugine che c'è sulle foglie pieno di fiori con questi bottoni colorati di giallo al centro e che se ti avvicini ti stupisce ancora in un altro modo cioè con questa forma strana del petalo e quindi secondo me è una pianta che merita di essere conosciuta e che merita anche l'occasione di poter essere una pianta facile con cui azzardarsi a entrare in giardino con le mani nella terra la conoscevi è una pianta di cui hai già sentito parlare oppure no è una pianta di cui conosci metodi di coltivazione infallibili che potrebbero interessare a tutti e soprattutto a me in primis oppure no io ci ho provato e mi è sempre morta è una cosa che mi piacerebbe sapere ecco e c'è anche un'altra cosa che mi piacerebbe sapere perché io mi sto rendendo conto in questo appuntamento settimanale del podcast che forse una volta a settimana è poco c'è troppo di cui parlare tra cose legate all'arte cose legate alla letteratura cose legate al territorio alle foreste agli ambienti naturali e urbani ai giardini storici e poi anche le cose pratiche il giardino questi elementi li racchiude tutti in qualche modo è un come un enorme saga un enorme poema epico in cui sono racchiuse in forma di racconto anche delle conoscenze scientifiche pratiche teoriche dei dei concetti che non sono propriamente una storia un giardino è una cosa bellissima artistica ed è una cosa estremamente pratica che ti fa sudare ci sono persone attirate più da una cosa più attirate da un'altra a me attirano tutte queste cose quindi io ora ti sto chiedendo cosa ne pensi tu ti piacerebbe se i appuntamenti che abbiamo diventassero più frequenti per poter parlare di tutte queste cose proprio perché questo nostro podcast non è un soliloquio ma anzi è un dialogo che avviene attraverso messaggi commenti commenti su vari canali su su youtube su su spreaker su su instagram su telegram e in alcuni casi anche a voce è un qualcosa che mi dimostra che non è un argomento mio ma è un qualcosa che riguarda tutti quanti ovviamente tutte le persone a cui interessa parlarne che sono tante quindi se ti interessa darmi questo parere puoi farlo andando su giardinorivelato.it molto semplicemente e se lo fai tu beh ti sono veramente grato perché vuol dire che hai trovato il tempo per farlo esattamente come hai trovato il tempo per ascoltare questo episodio grazie dell'ascolto e di essere stati insieme con la scusa del giardino